Ciao a tutti, grazie per essere venuti a noi, io sono Lee Carroll, io sono Monica Murani. Siamo qui oggi per parlare di quello che sta accadendo sul nostro pianeta. Insieme io e Monica abbiamo un programma settimanale per iscritti chiamato Mercoledì della Guarigione e offriamo questo programma gratuitamente il primo mercoledì di ogni mese. Noi vi incoraggiamo a tutti, se non conoscete questo, ecco di poterlo seguire. Molti che guardano il nostro programma ci chiedono di commentare sulle cose orrorifiche che accadono nel mondo oggi. Alcuni vedono che noi non ne parliamo durante il programma settimanale, in effetti non lo facciamo, perché parte della nostra filosofia del programma del Mercoledì della Guarigione è creare un luogo sicuro, che è libero da qualsiasi notizia drammatica odierna. È come un santuario dove possiamo ritirarci per un po' per ricevere messaggi che ci sostengono. E ci sono anche tantissimi ospiti che possono essere ascoltati e poi io canalizzo dei messaggi da Kion e lo facciamo dal 2019. La ragione per cui Kion è qui è perché c'è il cambiamento che stiamo vivendo. È un cambiamento nella coscienza di questo pianeta e l'umanità sta iniziando a risvegliarsi. Lo so, lo so. Proprio adesso molti di voi stanno dicendo, se c'è un risveglio che sta avvenendo, io non lo vedo assolutamente. Quello che io vedo è oscurità. Fatemi dare una metafora che Kion ci ha ripetuto tante volte. Quando accendete una luce molto luminosa in una stanza oscura, tutto lo sporco si mostra. Lo sporco è sempre stato lì comunque. E tutte le cose orribili che si erano nascoste nell'oscurità per secoli, ecco, improvvisamente sono visibili. Coloro che hanno operato nell'oscurità cercano di fare il loro meglio per mantenere lo sporco e eliminare la luce. Nel processo di questa battaglia tra luce e ombra, noi vediamo cose che ci colpisce nel cuore. E ci sono molti di voi che si chiedono perché io e lì, non parliamo di questo nel mercoledì della guarigione. E di nuovo, perché parte della nostra filosofia creare un luogo sicuro per ritirarsi e recuperare. Però molti vogliono sentire quale sia la prospettiva di Kion sugli eventi che sono pieni di così tanta oscurità. E questo è lo scopo di questo messaggio che stiamo inviando a tutti, in modo tale che possiamo sentire da Kion, a proposito di questi eventi che stanno accadendo. E certamente in questi ultimi due anni abbiamo avuto tanti eventi che sono stati orribili, ad esempio incendi, alluvioni, tutti questi disastri naturali devastanti dove sono state perse tante vite. E poi questi eventi che ci scioccano profondamente, come il traffico degli esseri umani e la guerra. Io ricordo che quando è iniziata la guerra tra la Russia e l'Ucraina, io ho pianto e ci è servito del tempo per uscire da quel dolore. Adesso abbiamo un'altra situazione nel Medio Oriente, di nuovo, è così doloroso per il cuore. E io ho pianto, sì, e io e lì abbiamo amici che conosciamo molto bene, che sono stati coinvolti e sono in queste aree. Ecco perché vogliamo parlare di questo oggi, forse per aiutarvi a navigare attraverso gli eventi che state sperimentando direttamente o indirettamente, o state guardando da lontano ma vi sentite senza possibilità, senza speranza. Ecco, cosa fare quando vedete il peggio del peggio e vi mette in ginocchio e iniziate a piangere? Cosa potete fare per aiutare coloro che stanno attraversando una tragedia? E voi lo state guardando. Cosa potete fare quando sentite che la vostra stessa compassione viene disattivata? Il primo passaggio che Canon ci chiede di fare è comprendere la dinamica dell'energia oscura che è davanti a noi. C'è una battaglia tra luce e ombra, proprio adesso. E quello che vuole l'oscurità per voi è di rimanere nel dolore. Se voi rimanete nel dolore, potete pensare solo a quanto sia brutto e orribile. Ecco, la parte oscura sta vincendo, perché state facendo proprio quello che vuole l'energia oscura. Quando vi concentrate su guardare quello che sta accadendo e sentite gli effetti di questo, voi siete disattivati. Canon ci chiede di moderare questo, che ci dà così tristezza e così risposta empatica, e che ci porta nella disperazione. La reazione di questo genere può eliminare proprio la speranza. E Canon ci dice continuamente che l'energia oscura di questo pianeta sta facendo di tutto per mantenere il potere e vuole riportarci a una terra di più bassa energia. Il modo più veloce per far questo è portarci nella paura, nel dolore. Nel perdere la speranza e senza speranza non c'è possibilità di generare la luce. E ricordate, come operatori di luce, noi generiamo la luce e la speranza è un'energia attiva di benevolenza. Voi potete anche creare una coscienza di benevolenza e mandarla nei luoghi. E il modo più veloce per attivare questa abilità è di generare luce e schiacciare gli operatori di luce, coprire la loro luce. Se rimanete nel dolore, il vostro motore di luce viene bloccato. E se rimanete nella mancanza di speranza, ecco, non potete sentire altro che altra tristezza e dolore. Quindi invece di rimanere in un luogo di disperazione, ci viene chiesto di disattivare la mancanza di speranza e moderare la nostra empatia. E questa è una cosa molto interessante. L'empatia è definita come l'abilità di condividere la sensazione di un'altra persona. E può sembrare compassione, ma gli empatici intorno a me sono completamente disattivati in questo momento. Lo posso vedere. E solo quando noi possiamo moderare questo processo e attraversarlo, ecco che noi possiamo sviluppare qualcosa di meglio, chiamato azione compassionevole. I semi di queste energie che sono piantate da tragedie, eventi orribili, non andranno mai via. Il tempo ne diminuirà la percezione, ma non andranno mai via. Comunque, un'anima antica può trasmutare questi e fare la differenza attraverso l'azione compassionevole. Questi semi sono cambiati in qualcos'altro, trasformati in qualcos'altro, invece di avere un effetto sulla nostra vita continuamente. Kairon ci dice che noi stessi stiamo cambiando il nostro passato. Wow, che concetto! E questi semi dell'essere senza speranza e di paura sono trasmutati nella creazione di compassione e una sensazione di essere capaci di fare la differenza. Questo è uno di questi nuovi strumenti di cui Kairon ci sta parlando, che sono adatti al cambiamento. Ci permette di sentire, percepire, visualizzare coloro che stanno attraversando una tragedia, oppure che l'hanno attraversata nel passato, senza essere sopraffatti dall'empatia, che vi mette in una situazione identica a quella in cui sono, essere quindi nel problema con loro, perché questo è quello che fa l'empatia, essere con loro lì. L'azione compassionevole vi permette di riformulare il vostro dolore in un'azione di compassione e inviarla a coloro che ne hanno bisogno. Anche senza conoscire il nome di qualcuno, di come sono, o qualsiasi cosa di loro, tu puoi visualizzare la pace, il riso, la gioia interiore, vedere il Dio dentro di loro. E la scienza è da nostra parte in questo, perché ci dice che la coscienza è un'energia che può essere misurata e ha un effetto sulle cose fisiche. È così che combattiamo l'oscurità, è attraverso l'azione compassionevole, quando ci prendiamo del tempo, per inviare un'onda d'amore, compassione e benevolenza, per avere giorni migliori in futuro. Avere abbastanza empatia per gli altri, ma senza che questa vi blocchi. Invece convertite questo in luce. Visualizzate pace per coloro che non l'hanno. Date loro quello che voi avete. Se è una situazione di pace, inviate quello che voi avete. Inviate senza un preconcetto su ciò che pensate loro possano avere bisogno. Adesso chiederò Monica di guidarci in una meditazione, prima del messaggio conclusivo di Caio. Grazie Lee. Quello che mi piacerebbe fare è portare l'attenzione su di noi, collettivamente, che stiamo creando un campo di coerenza. Gli uni insieme agli altri. Far questo è molto semplice. Io vi invito a chiudere i vostri occhi. E permettere al vostro respiro di rallentare. Ispirate attraverso il naso, contando fino a 4 o 5, e poi espirate e contate fino a 5 o 6, mentre buttate fuori l'aria. Inspirate lentamente attraverso il vostro naso ed espirate attraverso la bocca. Questo ritmo lento di respiro invia un messaggio al vostro corpo che proprio adesso voi siete in un luogo sicuro. E in questo luogo sicuro l'invito è di rilassarsi, un rilassamento totale di ogni parte del vostro corpo. Iniziate con la vostra testa, rilassate la vostra testa, il collo, le spalle, le braccia, le mani. E continuate a respirare lentamente. Rilassate il vostro petto, l'addome, le vostre gambe, le ginocchia e le caviglie, i vostri piedi. E in questo luogo, in questa situazione di totale rilassamento, sappiate che siamo in un luogo sicuro. Io vi invito a portare la vostra attenzione e la vostra concentrazione all'area del vostro cuore. Il vostro cuore intelligente che irradia. Uno stato eterno di pace, amore, compassione, benevolenza. E c'è un'intelligenza infinita nel vostro cuore. E in questo momento, che abbiamo rallentato il nostro respiro e ci siamo sintonizzati con lo stato rilassato del nostro corpo, stiamo creando un campo di coerenza tra i nostri cuori. E semplicemente concentrandoci sull'amore che viene generato dentro il campo del cuore che noi abbiamo creato tra di noi, come anime antiche, come operatori di luce che sanno come fare questo, noi amplifichiamo l'intento l'uno con l'altro. E come è stato chiesto poco fa, se siete in un luogo di pace, perché non inviare questa a coloro che in questo momento non l'hanno? E così, in questo stato di rilassamento, di tranquillità e di pace, collettivamente lasciamo che questo stato di pace possa andare nel campo intorno a noi. L'intelligenza del campo dirigerà queste energie esattamente dove essa è necessaria. E così, tutto quello che noi chiediamo è di rimanere in questo stato di tranquillità, rilassamento e pace. E adesso noi invitiamo Crayon a portarci un messaggio per questi tempi. Saluti miei cari, sono Crayon del Servizio Magnetico. Perché vi chiedo a coloro che stanno ascoltando questo di trovare uno stato di pace e tranquillità? La risposta migliore che posso darvi è perché quello che voi sperimentate proprio adesso quale essere umano che sta ascoltando questo che forse qui non è in una situazione problematica, potete prendere quello che voi generate e letteralmente inviarlo al mondo. Questo è quello che è un operatore di luce. È davvero la sua definizione. I fari che guidano verso porti sicuri lo possono fare perché hanno luce. Vorrei definire qualcosa adesso e rivelare qualcosa altro. La definizione che vorrei definire è quella che riguarda il recupero. Coloro che hanno seguito i messaggi che ho dato in questo specifico tempo sul pianeta, potete aver pensato perché io ho nominato questo anno l'anno della scoperta è l'anno del recupero. Entrambe le due parole ma il recupero è stato la parola che ho scelto. La scoperta sta accadendo ma poiché voi permettete solo una parola per anno che venga da me io non ho continuato il concetto della scoperta invece ho detto recupero. Ma davvero state ancora scoprendo cose, vero? Stato scoprendo che non è finita. Il recupero come posso descrivere questo anno come l'anno del recupero? Da cosa state recuperando? Adesso lo rivelerò quasi alla fine di quest'anno io rivelerò cosa significhi perché è profondo miei cari quello che sta accadendo proprio adesso. Immaginate qualcuno che sia in un profondo coma è stato in questa situazione per tanto tempo poi è andato all'ospedale forse o nel luogo dove è per verificare se si sia svegliato ma è ancora nel coma e poi un giorno ricevete un messaggio dall'ospedale o dal luogo dove è che vi dice che c'è un risveglio che sta recuperando dal coma e andate lì e questa persona apre i suoi occhi cosa è accaduto da quando sono entrati in coma cos'è il nuovo e il diverso cosa ho perso per quanto tempo sono stato nel coma questa è la metafora per un'umanità che sta recuperando da un coma molto profondo del passato nel quale siete stati state iniziando a risvegliarvi dall'oscurità nella scoperta della luce e nel processo c'è frizione tra l'oscurità contro la luce che si mostra queste non sono novità coloro che stanno sentendo questo per la prima volta miei cari questo è stato predetto dagli antichi e lo potete vedere nelle iscrizioni sui muri di pietra che lo descrivono questo è il tempo della percezione degli equinozi dove l'umanità avrebbe potuto distruggere se stessa oppure risvegliarsi il momento è passato per la distruzione quindi vi state risvegliando da un po' di tempo e nel mese di novembre io darò quattro canalizzazioni a riguardo del risveglio dall'oscurità e questa potrebbe essere la prima di questa serie diventando una serie di cinque ma questo è quello che sta accadendo l'umanità in generale ha iniziato a risvegliarsi alla luce e in questo coloro che hanno investito nell'oscurità sono nei guai avete notato anche solo quest'anno come ci sono queste scintille come le cose stanno accadendo in un modo che non vi sareste mai aspettati in modi che sono allarmanti potreste pensare che l'oscurità stia vincendo ma non è quello che sta accadendo l'oscurità sta perdendo in modo profondo miei cari contro la luce guardate alle reazioni rispetto alle guerre che ci sono sul pianeta in questo momento rispetto alle reazioni che si sono avute nel passato ad altre guerre su questo pianeta è sempre 50-80 anni fa sembra che quando una nazione iniziava le altre nazioni la seguivano si polarizzavano e si creava una guerra mondiale ma in questo caso specifico queste battaglie che stanno avvenendo hanno coinvolto le nazioni di tutto il pianeta non a prendere parte su un lato ma semplicemente nella compassione e dicono come può accadere questo non vogliamo essere coinvolti voi sapete ai miei cari che qualcosa sta accadendo quando la Svizzera non è più neutrale voi sapete gli europei sanno questo sapete che qualcosa sta cambiando su questo pianeta quando le nazioni non alzano la propria mano e dicono bene mi unirò con voi in questa polarizzazione non c'è questo è più come piccoli gruppi che stanno creando tanto orrore e questo è molto diverso e c'è qualcosa in comune se notate guardate alle cose in comune che stanno accadendo tutto quello che è di orribile in questo momento ecco voglio usare questo per portarvi indietro di 50 anni forse 80 anni al momento che tutti voi conoscete di cui sapete perché erano gli anni dei vostri nonni ma non funzionerà eppure ci sono ancora coloro che credono che funzionerà e ne hanno fatto un investimento e ho già detto e ho detto al mio partner di dirvelo se voi entrate nell'essere senza speranza e nella paura loro vinceranno e so che non volete ascoltare quello che sto per dire ma questo era previsto e so che non volevate ascoltare questo ma non doveva essere così orribile come è gli esseri umani hanno libera scelta su come gestire cose che sono nuove con un po' di squilibrio ad esempio vi voglio chiedere questo madri padri ovunque voi siate sul pianeta ascoltate questo cosa insegnate ai vostri bambini a riguardo dei vostri vicini cosa avete forse inconsciamente insegnato ai vostri bambini a riguardo di chi è intorno a voi anche sul pianeta e voglio dire questo sino a che voi insegnerete loro chi odiare e riportate il passato qui e perché lo dovrebbero prenderlo con loro è da qui che viene la mancanza di speranza madri padri se posso darvi un consiglio a tutti voi dico attenti a ciò che insegnate ai vostri bambini potete insegnare la storia che è stata sino ad ora oppure insegnare la storia che può essere invece di continuare qualcosa per secoli voi potete bloccare tutto adesso il suggerimento per l'umanità scegliete leader più giovani fatelo scegliendolo perché questi sono coloro che non sono coinvolti in una vecchia storia come coloro forse che sono qui adesso in questo momento ci sono così tante cose che l'umanità può fare proprio adesso per moderare tutto questo e vincere in modo più veloce vincere significa pace vincere non significa vincere una guerra è una vittoria della coscienza che noi scegliamo che voi scegliete ecco perché state ascoltando questo programma forse ho un suggerimento ho dato suggerimenti alle Nazioni Unite sono stato lì sette volte e questi suggerimenti sono stati lasciati lì perché non sono pratici vanno contro l'esperienza politica e nessuno di essi è stato messo in atto perché sono difficili ma adesso eccone uno che qualcuno potrebbe realizzare forse non è in un modo perfetto ma porterà attenzione in modi benevoli su quello che sta accadendo tutti voi volete far qualcosa a proposito di quello che sta accadendo e io vi sto dicendo che l'energia di un miliardo di persone che ha lo stesso pensiero benevolo compassionevole è profondo può cambiare così tanto è solo una questione di mettersi insieme così tanti possono essere coinvolti più di un miliardo se lo fate bene un nuovo tipo di giorno mondiale della pace solo che non sarà un giorno saranno quattro minuti quattro minuti durante i quali tutti sul pianeta quelli che possono si fermeranno che sia di giorno o di notte o si devono alzare nel mezzo della notte per farlo quattro minuti durante i quali tutti i sistemi di comunicazione saranno spenti quattro minuti e dove ognuno guarderà tutti gli altri sul pianeta come Dio vede loro questo funziona per tutte le religioni miei cari guardate coloro che sono in un problema come li vede Dio e amateli nello stesso modo questo è tutto non dovete mandare una dottrina non dovete pensare quello che voi pensate loro abbiano bisogno semplicemente chiedete di inviare energia a coloro che sono in un problema Dio lo vede e lo vuole la sorgente creativa lo spirito Dio comunque vogliate chiamarlo è comune a tutta l'umanità potete farlo e qualcuno può organizzare questo così quando l'intero pianeta inizierà a concentrarsi su questo ci sarà un risveglio di altri e questo è qualcosa di profondo io voglio contribuire ci sarà anche qualcuna obiezione perché la dottrina non è giusta ma è tempo di rilassarvi solo per quattro minuti e inviare pace cosa dice il vostro Dio a proposito di questo il vostro Dio dice fallo fallo musulmani ebrei cristiani altri non importa non importa Dio è lo stesso come Dio vedrebbe quello che state facendo adesso io ve lo dico miei cari è tempo di cambiare le cose e questo è il modo in cui si può farlo questo è stato provato così tante volte grazie agli esperimenti di coloro che stanno cercando di provare e vedere e studiare la coscienza collettiva che ha un effetto su altri luoghi e se un miliardo di persone si fermasse solo per quattro minuti quattro perché quattro è la struttura dell'universo tutto è divisibile per quattro perché l'universo è a base di dodici quattro minuti fermatevi e pensate a coloro che sono nei guai che hanno un problema e inviate quello che voi avete sono coloro che stanno ascoltando questo e dicono questo non farà nulla io posso dire forse non avete fatto attenzione all'ultima ricerca scientifica non avete fatto attenzione su quello che sta accadendo sul pianeta è il cambiamento di coscienza che gli esseri umani stanno avendo che si stanno risvegliando prendersi cura di l'uno degli altri in modo migliore io vi sto dicendo che questo pianeta si sta risvegliando da un coma sta recuperando dall'oscurità le cose che vedete sul pianeta adesso non dureranno non dureranno la storia non deve ripetere se stessa adesso dico queste parole questa potrebbe essere l'ultima battaglia quando vi rendete conto che non funziona quando vi rendete conto che mai nessuna battaglia ha funzionato questa potrebbe essere l'ultima battaglia di questo pianeta e se renderete questo così tutto inizierà a cambiare quando la terra sarà un luogo sicuro e sempre sicura invenzioni vi arriveranno che sono in attesa per creare cibo creare elettricità pulire l'acqua invenzioni stellari di cui ancora non avete pensato sono in attesa per voi quando smetterete di combattere l'uni con gli altri io sono Krayon io vedo una terra multidimensionale io vedo energie che stanno aspettando prima di emergere quando non sarà più pericoloso uscire fuori queste sono le cose che vi ho sempre detto questo pianeta ha una sorgente di luce che non potete fermare e coloro che sono nell'oscurità stanno combattendo per la loro stessa esistenza e perderanno state con me quattro minuti chi organizzerà questo? possiamo farlo potete farlo è il momento io sono in amato di tutti voi questi sono i giorni per i quali io sono arrivato ne ho parlato l'ho predetto rendiamoli brevi e così è